Il forum di coproduzione è un'iniziativa itinerante di Regione e Apolia Film Commission e abbiamo scelto quest'anno di farla a Brindisi perché questa città è bellissima, è dotata di infrastrutture e servizi, sempre di più può proporsi come destinazione turistica anche per il turismo culturale. Quindi oggi è insieme una promozione di questo territorio ma anche un investimento sull'industria turistica e culturale. Sostanzialmente promuoveremo qui gli incontri tra produttori provenienti da altri paesi e produttori pugliesi. Insomma una grande scelta questa di Brindisi che qualifica il Salento Tutto e che con Medimex che abbiamo scelto di fare qui l'anno prossimo costituirà davvero una base importante per le iniziative culturali. Sempre di più Brindisi insomma può essere insieme a Lecce e a Taranto nel Salento un grande polo culturale e turistico. Assessore poi questo colpo d'occhio insomma fantastico, veramente sembra un set cinematografico. È vero il mare è fantastico, è bellissimo il rapporto con i monumenti. Questa è una città ricca di storia, di cultura e un approdo di secoli e questa bellezza ovviamente era lo stimolo per cittadini provenienti da varie parti del mondo per fermarsi qui. Ecco questo approdo meraviglioso. In questo porto sempre di più qualificato può diventare a nostro avviso sempre di più non soltanto location di film ma può diventare destinazione turistica. Grazie a tutti.